Rondine per me è un luogo di rigenerazione dell'anima, io sono qui da anni che vengo qui, sono venuto qui nel 2020 quando mia madre ha fatto la sua ultima testimonianza e ho scoperto questo borgo e soprattutto queste teste, questo modo di ragionare. Alberto Belli Paci, figlio di Liliana Segre, con Rondine cittadella della pace, ha una relazione speciale e di lunga data, era presente nell'ottobre 2020 all'ultima testimonianza pubblica della madre e ha deciso di essere presente anche alla settima edizione di Utopic Festa 2023, il festival internazionale sul conflitto. Questa esperienza verso la luce di persone che credono profondamente in un percorso in cui il conflitto interiore viene prima disarmato e poi ricreato, in cui le persone trovano dentro se stesse una motivazione precisa per individuare nell'altro un individuo, non un nemico, non un nemico storico dal quale sono giunti dalle loro etnie, ma riscoprono la persona umana, riscoprono percorsi di vita che poi porteranno nei loro paesi. Io trovo che sia un'esperienza bellissima nella quale sono un felice entusiasta volontario che si dà da fare per tramandare questi sistemi e per proporli anche in altri territori magari in cui Rondine non è conosciuta.